buongiorno ragazze oggi l'undici dicembre e sono curiosissima di sapere cosa ci sarà in questo barattolino perché secondo me dalla forma ci potrebbe essere una candela però qui sento che qui la plastica è più morbida qui invece più rigida quindi potrebbe essere anche un tappo per cui basta apriamolo cerchiamo di scoprire di che si tratta ok si è un tappo va bene riuscirò ad aprirlo allora impacco capelli rivitalizzante alla passiflora fantastico vabbè io adoro i prodotti per i capelli quindi per me questi prodotti sono meravigliosi anche perché ho sempre sentito parlare bene di questa marca anche da una mia carissima amica che mi ha detto che ha provato qualcosa non mi ricordo cosa di preciso ma le è piaciuto tantissimo quindi favoloso vediamo come come l'odore e come la consistenza allora era un po di lato nella scatola quindi no vabbè questo profumo è una cosa spettacolare è buonissimo la consistenza è questa qui è molto fondente al tatto quindi vabbè questa ovviamente la proverò tipo adesso perché a questi prodotti non riesco a resistere ne ho tantissimi aperti perché devo provarli subito e quindi ma il profumo è spettacolare davvero spero resti sui capelli troppo troppo buono grazie a tutti